Portopalo, legge Severino, la prefettura di Siracusa sospende due consiglieri del comune. Con decreti di ieri 2 febbraio il prefetto di Siracusa giusto è scaduto e disposto alla sospensione di Corrado Lentinello e Rachele Rocca dalla carica di consigliere comunale di Portopalo di Capopassero. Il provvedimento è conseguenza della decisione del GIP del tribunale di Siracusa che con ordinanza del 27 gennaio scorso su richiesta della locale procura della Repubblica ha disposto alla misura degli arresti domiciliari nei confronti dei predetti amministratori ritenuti responsabili del reato di tentata concussione.